Non mi sembra difficile che nel giro di 16 ore abbiano stabilito una responsabilità di un certo numero di magistrati nei confronti del tentato colpo di Stato. E' per questo che noi insistiamo a dire che bisogna difendere lo Stato di diritto e non bisogna ispirarsi a logiche di vendetta.